Dottor Giovanni, donna Maria Franca, signore e signori, signor Sindaco, è davvero un grandissimo privilegio poter festeggiare con voi i primi 70 anni di Ferrero. Io la invidio molto perché lei giustamente ha dovuto prendere un fazzolettino per il volto, io ho la camicia e non farò la stessa cosa che ha fatto lei col volto con la camicia per evitare di dare scandalo ai bambini, ma effettivamente abbiamo preso un po' di caldo, ma nel prendere un po' di caldo, lasciatemelo dire, io mi sono sentito profondamente orgoglioso del vostro lavoro. Tutti noi italiani siamo abituati a crescere con alcuni punti di riferimento, sicuramente la Nutella è un punto di riferimento, lo è stato per molti di noi, ma forse non tutti hanno avuto la consapevolezza della incredibile storia del signor Michele e di tutti voi ad Alba. Perché 70 anni fa c'era un laboratorio, un piccolo laboratorio artigianale di pasticceria, come possiamo definirlo, di dolci. Vorrei che fosse chiaro questo e vi fosse consapevolezza, appena 70 anni fa non c'era sostanzialmente niente se non la voglia di lavorare di un uomo, della sua famiglia e dei suoi collaboratori. La voglia di lavorare e poi di creare e quindi di donare, come recita il claim della fondazione. Allora da questo punto di vista vorrei dire che la storia di Ferrero è una storia che insegna molto all'Italia e non soltanto ci rende orgogliosi, ma ci invita, ci stimola, ci sprona a mettersi in gioco, a provare ciascuno di noi a fare qualcosa di bello, di grande. Certo, non è che le Ferrero ne nascono una alla settimana, non è che di Ferrero ne nascono una al mese o una all'anno, ma l'idea di un paese appena uscito dalla guerra, dopo la lotta partigiana di queste zone, dopo le difficoltà, dopo le tensioni, dopo le polemiche, dopo la morte di quel periodo, che si prova, un territorio che si prova a rimettere in gioco e che da essere la provincia un po' forse più lontana, la provincia alla periferia del paese, diventa oggi, in particolar modo grazie a voi, anche se non solo grazie a voi, la realtà, la provincia italiana con il maggior export in assoluto. Vi segue Verona, poi Milano, Parma, Salerno, le altre. Cuneo è diventata il punto di riferimento dell'export per il nostro paese. E perché questo è accaduto? È accaduto perché accanto alla storia industriale, accanto ai vari prodotti, io confesso che nella rapida visita, fortunatamente rapida, perché dovunque andavamo cercavo di prendere qualcosa, cercando di dimostrare che i politici sono quelli che mangiano, in un altro senso, fortunatamente, io a un certo punto mi sono emozionato su come si chiama la cascata d'oro dei Ferrero Luce, mi sono emozionato lì, effettivamente ha un suo spessore morale. Però accanto al lavoro e al lavoro quotidiano, che cosa è accaduto in questi anni? È accaduto che una storia di valori, di identità, di rapporto col territorio, è diventata un punto di riferimento nel mondo. E il mondo di domani è un mondo complicato da capire, da descrivere. Parlando con il dottor Giovanni discutevamo ad esempio di quanto impatterà l'e-commerce. Sono stato molto fiero di arrivare in Cina al G20, il presidente della Repubblica Cinese Xi Jinping ha ospitato i leader e capi di Stato e di Governo dei 20 paesi più industrializzati, ha detto che questa è una zona dove si può investire, noi abbiamo già fatto con la Ferrero, non soltanto con la Ferrero, ma la Ferrero è la più grande azienda che sta in quella parte di Cina. Pensavamo a quanto avremo di percentuali di persone che compreranno attraverso l'e-commerce o, come spiegava il dottor Giovanni, come cambieranno anche i modelli dei consumi e dei consumatori. Quindi non sappiamo ancora bene immaginare come sarà il futuro, però abbiamo una certezza che la storia di successo di Ferrero non nasce soltanto dalla straordinaria genialità del signor Michele, ma nasce dalla sua capacità di coinvolgere questo territorio e i lavoratori che ne fanno parte e che si sentono parte di una famiglia. Allora credo che fosse bello, giusto e doveroso rendere omaggio a lei, Donna Maria Franca, per essere qua nella veste di Presidente della Fondazione dall'inizio e rendere un saluto particolare a tutta la comunità di questo territorio. Io sono profondamente convinto che il tempo migliore dell'Italia però non sia il passato. Dirlo in Ferrero che in 70 anni ha fatto cose straordinarie, può sembrare persino una provocazione, ma sono assolutamente convinto che se l'Italia fa tutto quello che deve fare il tempo migliore dell'Italia debba ancora venire e possiamo entrarci tutti insieme tenendo forti i valori di identità, di rapporto col territorio, di riferimenti culturali con la bellezza dello stile di vita, con la qualità della nostra dimensione umana. Ecco, per tutti questi motivi, in modo molto rapido, vi porto il saluto del Governo, vi porto il ringraziamento del Governo per ciò che la Fondazione sta facendo, l'assoluto sostegno del Governo perché nei settori di competenza dell'agroalimentare si continui a correre, a crescere. Ci stiamo lavorando anche perché questo è un settore molto bello, ma anche molto difficile. Qualcuno cerca in alcuni paesi di inserire delle regole capestro più finalizzate a inseguire interessi economici che non a difendere la qualità. Se c'è qualcuno che vuole parlare di qualità della vita, di qualità dei cibi e dei prodotti, anziché immaginare di fare strane regole, venga in Italia. Noi lo ospitiamo, lo ospitiamo ad Alba, lo ospitiamo dove vogliono, ma siamo disponibili a educare alla qualità del cibo anche questi presunti tecnocrati che ogni tanto si svegliano e inventano qualcosa di stravagante. Ma voglio dire qui, ad Alba, che noi siamo consapevoli che questi 70 anni sono solo l'inizio. A tutti e a tutti voi l'augurio di cuore di continuare a sentirvi parte di una grande tradizione, di una grande appartenenza. In questo caso l'appartenenza alla Ferrero, alla Fondazione, ma più in generale l'appartenenza ad Alba, al suo territorio, a Cuneo, alla provincia di Cuneo. So che tra Alba e Cuneo bisogna stare attenti perché ci sono più tensioni che tra Firenze e Pisa, ma diciamo la provincia di Cuneo la possiamo definire, visto che è un'azienda globale che parla in tutto il mondo, possiamo definirci orgogliosamente anche appartenenti alla provincia di Cuneo e soprattutto appartenenti all'Italia. A tutti quelli che dicono che l'Italia non ce la farà mai, raccontate la storia del signor Michele, raccontate la storia della Ferrero e dite a chi oggi ha la responsabilità della Ferrero, al dottor Giovanni e alla sua prima linea, ai suoi collaboratori, ringrazio tra l'altro per i numeri che mi hanno presentato oggi sul Jobs Act, 400 assunzioni che sono un passaggio importante in un momento di difficoltà dell'occupazione in Italia. A tutti loro diamo il messaggio. Noi saremo al fianco di questa azienda perché i primi 70 anni sono niente rispetto a quello che vogliamo vedere ancora in futuro. Una storia bellissima e quella più bella. La scriveremo insieme. Complimenti per il 2015, risultati incredibili, in bocca al lupo per i prossimi anni. Donna Maria Franca, da parte di tutti noi, grazie per il lavoro della Fondazione. Andiamo anche quello culturale, quello sul futurismo che mi raccontavate prima, ma anche le altre iniziative. e a tutti quelli che si sentono parte di questa grande famiglia, aiutateci a rendere l'Italia un posto che tenga insieme valori e futuro. Viva la Ferrero e viva l'Italia!